Non so se a te è mai capitato, a me sì. Ci sono delle persone che non appena conosciute senti sbam, è come se dentro di noi saltasse la corrente e fossimo incapaci di pensare. Queste persone ti colpiscono perché sono attraenti, per il modo in cui parlano, per come sorridono, per come ti guardano, perché sono divertenti, perché hanno le tue stesse fantasie, perché tra voi esiste un'incredibile intesa, perché il sesso con loro è meraviglioso, perché ti fanno sentire bene. L'intensità di ciò che ti fanno provare ti coinvolge così tanto da impedirti di vedere il lato B, il lato nascosto di questa persona, e poter considerare la relazione come un insieme di più fattori.